E noi Francesca continuiamo a parlare di progetti importanti che riguardano ad esempio il nostro mondo, la natura, gli animali. Infatti l'Italia è all'avanguardia nella ricerca, nella conservazione delle specie animali. Fatto che ha permesso al Safari, lo Zoo Safari di Ravenna, di portare a termine un progetto molto importante, quello della conservazione di una specie che è pressoché estinta. Ce ne sono solamente qualche migliaia al mondo, il cocodrillo nano africano che vediamo in queste immagini. E sono praticamente pochissimi gli esemplari come dicevamo al mondo, quindi gli scienziati e ricercatori di Ravenna sono riusciti a portare alla nascita questo unico esemplare. Beh, ma adesso cambiamo di nuovo argomento e la linea va alla nostra Giovanna Rossello.